Daniele Revisore Ad ora, signori, volevo presentarvi uno dei miei pezzi preferiti. E lo faccio avvicinandomi al vostro pianista. ho sempre sognato di fare questa cosa ma non ho mai avuto un piano eh sì non immaginate che soddisfazione stare qui vero? me and mrs. jo we're gonna be going on but we know they're strong but it's so much too strong to let it go now we're in every day at the same I feel 60 no one knows it's gonna be 10 holding hand we're making all kinds of land we know what the two bucks play is okay but it's all we're gonna be yeah mrs. jones 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 oh oh mrs. jones No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.